Allora, in R2 la mia retta era descritta dall'equazione T tutti volte U-P appartenente a R che cosa cambia da R2 e R3? Che i vettori invece di avere due coordinate ne hanno tre Allora, per il resto questa sarà ancora meglio perché sarà ancora una retta Allora, innanzitutto prendiamo due punti, per esempio I uguale 1, 0, meno 1 Quindi la mia retta R ha l'equazione 1, 0, meno 1, più T volte 1, 1, 2 Allora, che significa? Questo è un vettore fisso, lo chiamiamo V0 e questo lo chiamiamo V2 Adesso il disegno mi viene difficile fare con la prospettiva esattamente questo vettore V0 e questo vettore V2 Ma per capire qual è la situazione, allora, disegniamo i tre assi cartesiani Poi, diciamo, in R3 noi abbiamo due vettori Uno che è V0 Allora, disegno la proiezione di V0 giusto per far capire che non sta in un piano Cioè, sta in un piano, ma non sta nei piani, diciamo, ortopolari di assi coordinati Magari, uno nella certezza, questo è V0 Poi abbiamo un altro vettore V, un altro vettore che chiamiamo V Anche questo V2 Ha un altro, quando lo proiettiamo sul piano x, y E' un altro vettore che chiamiamo V1 Allora, che significa? Quando noi andiamo a prendere V0, questo è un punto della retta, è il punto P Perché praticamente V0 è proprio qua Poi significa che noi dobbiamo prendere V0 E sommare a V0 Il V2 Cioè, un multiplo di V2 Che cosa significa? Significa spostarsi da V0 Parallelamente alla direzione 2 E che si otterrà? Una retta Per esempio Se metto T uguale a 1 Otterrò 2, 1, 1 Che è il punto Q Se metto T uguale a 2 Se metto T uguale a 1 Qua arrivo a Q Se metto T uguale a 2 otterrò un punto che sta a tirare il Q T uguale a 3 è un punto più andata davanti Se metto T uguale a meno 1 vado indietro Cioè, dal punto di vista sostanziale cambia la forma Perché i vettori non sono di R2 ma sono di R3 Ma la sostanza non cambia È esattamente lo stesso modo di procedere di Q Semplicemente la nostra retta si può A più direzioni possibili Perché prima aveva solo le possibili direzioni dei vettori di R2 Adesso c'è tutte le direzioni possibili dei vettori di R3 Quindi è esattamente la stessa cosa Questo però Non ci dice in alcun modo per adesso Come dovremmo fare Per descrivere L'equazione di Piano Parometricamente Ok? E lasciamo la situazione in sospesa Non lo facciamo in piano per adesso Parometricamente Andiamo a vedere invece Che succede Quando passo da R2 in R3 Per l'equazione cartesiana Cominciamo con un'equazione Che si scriva allo stesso modo In R2 in R3 Per esempio Prendiamo l'equazione Siamo in R2 Prendiamo l'equazione Y uguale a 0 Questa nel piano di R2 Chi ci dà? Chi è Y uguale a 0? L'asse X Quindi le soluzioni di questa equazione Sono tutti i punti dell'asse X Questa è la mia rete Questa è la mia rete Questa è l'equazione X uguale a 0 Adesso però Se andiamo in R3 Qui avete tre Assi coordinati X, Y, Z Sono ortogonali Tra di loro Poi devono essere Disposti in maniera tale Da essere una termina Levogera Ma questo Lo vedremo poi Levogera significa Che uno Messo lungo l'asso 0 Guardando sotto Sotto Il nomino messo con la testa qua I piedi qua Guardando sotto Deve vedere Che ruotando In senso antiorario X di 90 gradi Tutti è l'asse 0 Questo vuol dire Terno a roccia Ovviamente Se fosse Al contrario Vedete che È esattamente il contrario Però Se la testa La mettiamo Dalla parte positiva Dell'asse 0 Deve vedere Questa situazione Comunque In questa In R3 Se adesso Vado a scrivere L'equazione Y uguale a 0 Questa cosa rappresenta Non una retta Quale piano? La X e Z Il piano Gli contiene L'asse X E l'asse 0 Perché? Perché quando Noi scriviamo questo Questo è L'insieme Degli X Y Tali che Y È uguale a 0 Invece Questa È l'insieme Degli X Y Z Tali che Y È uguale a 0 L'equazione È la stessa Ma l'insieme Di partenze È diversa Vedete L'area di tre coordinate Nel primo caso Ne avete due Ne fissate una Quando ne rimango Una Lì Mettete 0 Se preferite È l'insieme Di X 0 Scarica X A partenere Allora Questa è l'equazione Cartesiana Questa che equazione è? Paramentale Perché vedete Io ho La variata di X Di entri Di Allora Questa è l'equazione Cartesiana Per la sua volta Le coordinate Di partenza Sono 3 E quindi Quando ne fisso una Rimango Con questo piano qua Piano X Il piano Che contiene L'asse X L'asse Z Ed è Ortogonale All'asse Y Anche prima Era ortogonale All'asse Y Soltanto Che qua L'ortogonalità Cioè se io giro Metto la direzione Così L'ortogonalità Si vede In tutte le direzioni Cioè Il piano Per essere ortogonale Ha una retta Deve formare Tutti Diciamo Ogni Retta del piano Passante per il piede Dell'asse Deve formare Angoli retti Un angolo retto Con la retta Nel senso Chiaro? Se io avessi Un piano E una retta Non ortogonale Che succede? Quando io vado a fare Qua ottengo Un angolo acuto Da quest'altra parte Ottengo un angolo obtuso Se Se una retta La metto Che passa per il piede Di questa retta qui Cioè per il punto Di investizione Da questa retta E questo piano La metto La dispongo In maniera opportuna Lo posso ottenere Un angolo retto Girando Girando Lo posso ottenere Un angolo Se la metto In Qua Se metto questa retta In maniera opportuna Qua A un certo punto L'angolo sarà Vedi Quando la venta La metto così Quest'angolo è Che ne so 30 gradi Quest'angolo è 150 Giro Quest'angolo aumenta Quell'altro diminuisce Quando arrivo A A rovesciare I due assi Chiaramente La situazione Si deve essere scambiata Ma siccome Questo aumenta L'altro diminuisce A un certo punto Quando arrivo qua Per esempio Questo sarà 90 E quest'altro sarà 90 Dove Nel piano Che contiene Questa retta E questa qui Quindi Quando parlo di ortogonalità Tra retta e piano Significa Non questo Perché queste due Questa retta E questo piano Non sono ortogonali Conformando Questa retta Con una delle rette Che passano Per questo punto Un angolo ortogonale Un angolo retto Ma in tutti gli altri casi Invece in questo caso Ogni volta Che prendo Una retta Che passa Per questo punto Questa retta qui E la retta Che sta Tutti il piano Formeranno SEMPRE Un angolo retto Chiaro? Se io metto Qua una verticale Quando vado a fare Questa retta La giro Si vede ancora meglio Datemi un quadernone Allora vedete Se io prendo Il mio quadernone Questa è la retta verticale La posto Del quadernone Questo e questo Fanno un altro Retto Questa e questa Questa e questa Fanno un altro Sempre Se invece Datemi una penna Se invece Non sono ortogonali Allora vedete Questa E questa retta qui Andatemi una volta Allora queste due rette Non formano Un angolo retto Però quando la giro Questa Vedete Queste due rette Prossimativamente Perché Però formano Un angolo retto Da quest'altra Formano Un angolo Certo? Comunque qui abbiamo capito Due cose In forma parametrica Se prendo la stessa equazione Di prima Invece di metterci I vettori di R2 Ci metto i vettori di R3 Invece di ottenga una retta Semplicemente Quindi L'equazione parametrica Di una retta Non cambia Semplicemente Cambia i vettori Che ci metto dentro Invece di prendere In R2 In R2 E la retta Invece di R2 La provo In R2 Adesso Qui che cosa succede? Che Se prendo Un'equazione cartesiana Se la guardo In R3 E questa Non mi dà più Una retta Ma mi dà Un piano Ma uno dice Ma questo vale Perché La tua equazione Riguardava Si poteva scrivere Cioè La Z Non c'era E ora mettiamo Che una Invece sia anche la Z Prendiamo Per esempio L'equazione X Più Y Più Z È uguale a 1 Come è fatta Questa equazione Questa Allora io dico In questa equazione La posso scrivere Come il prodotto scalare Tra 1 1 1 E X Y Z Che fa No Ok Perché Così Così Poi 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 Uno dice Ma ci sta un punto Lo riusciamo Lo riusciamo a trovare In un punto Dove Questa equazione È soddisfatta Certo Per esempio Se io metto Se io metto Se io prendo il vettore 1 0 0 Con il punto 1 0 0 Allora Supponiamo Che il mio X Y Z Deba essere Abbia questa forma Qua Per fortuna Veniva da fuori Allora Se andiamo a sostituire Io ottengo 1 1 1 Scalare 1 0 0 Più W W Qua è 1 Ma questo lo posso scrivere come 1 1 1 Scalare 1 0 0 Più 1 1 1 Scalare W Siccome questo fa 1 Più 0 Più 0 Che fa 1 Semplificando A sinistra A destra Mi rimane 1 1 1 Scalare W Uguale 0 Quindi Io lo posso scrivere così Ma W deve soddisfare la condizione 1 1 1 Scalare W W W Fa 0 Allora Andiamo a vedere questa condizione Come si può meglio scrivere E' chiaro che W Lo posso chiamare W1 W2 W3 Però Non lo voglio fare Ma siccome Ix e Z Stanno già impegnate W lo chiamo ABC Ok Quindi andiamo a riscrivere Otteniamo l'equazione A più B più C Uguale a 0 Che se ci fate caso E' la stessa equazione di prima Semplicemente In questa nuova variabile Ma è omogenea Cioè Invece di averci 1 Ci sta 0 Chiaro? Allora Come Si può fare E' semplice Chi sono i vettori A B Che soddisfano questa condizione Allora A Lo posso prendere Come mi pare Per esempio B Lo posso prendere Come mi pare B A e B Si sono abitati a me Se li sostituisco qua dentro Come deve essere fatto C C deve essere Meno A Meno B Ma questo Qui Lo posso scrivere Come Insieme di A B Meno A Meno B Tali che A e B Appartengono A R Che cosa ho ottenuto? Che cosa è questa? E' un'equazione Paramedica Perché è un'equazione Paramedica? Perché A e B Sono dei parametri Che variano tutto R E al variare Di A e B Ottengo Tutti i punti Però questi punti Sono quelli Che mi danno W Non sono quelli Che mi danno X, Y, Z Però Non è difficile Passare a X, Y, Z Perché Se io adesso Devo scrivere Insieme Degli X, Y, Z Tali che X più Y Più Z Faccia 1 Questo chi è? E Questo Più 1, 0, 0 Quindi viene A più 1 B A meno B Meno A meno B Tali che A e B Siano in E E adesso La descrizione è completa Paramedica Del mio insieme Però Torno Pelo indietro E questa la riscrivo Come 1, 0, 0 Più A B Meno A Meno B Anzi Vado Lo scrivo In maniera Ancora diversa Tali che A B Appartenente E Torno un attimo indietro Questo lo scrivo Come 1, 0, 0 Più A volte 1, 0 Meno 1 Più B Volte U, 0 Meno 1 Tale che A e B Stanno in R E perché Qua mi viene 1 Più A Più B Più Qua era 0 1 Qua viene 1 più A Qua viene 0 più B E fa B Qua viene Meno A Meno B E fa meno A E otteniamo Ok Quindi Vedete che Cosa abbiamo Ottenuto Abbiamo Ottenuto Di nuovo Un'espressione Simile a Quella che Ottenevamo In R2 Però Cosa è cambiato Questo è il vettore Di traslazione Semplicemente Quando vado a scrivere Equazione parametrica Ci sta Un primo parametro Che moltiplica Una prima direzione Più Un secondo parametro Che moltiplica Una seconda direzione Il problema qual è? Che queste due direzioni Potrei cambiarle Cioè Potevo risolvere L'esercizio In maniera tale Per esempio Invece di fare A, B, C E fissare A e B Come parametro Devo fissare B e C E allora A che era uguale A meno B meno C E allora Se andate a fare Questa descrizione Il tutto Cambia Facciamolo Se io scrivo X, Y, Y, Z Talì che La son Faccia 1 Questo è uguale All'insieme Allora C lo fisso Arbitrariamente B lo fisso Arbitrariamente L'altro Che è? È 1 Meno B Meno C Tale che B e C Allora Questo se lo voglio scrivere In forma parametrica Se lo voglio scrivere In forma parametrica È 1 0 0 A Più B Che è moltibile Meno 1 1 0 Più C Che è moltibile Meno 1 Allora Vedete Che questo Vettore È rimasto lo stesso Ma questi due Cambiati Prima c'avevo 1 0 Meno 1 Poi c'avevo 0 1 Meno 1 Poi c'avevo Meno 1 1 0 Poi c'avevo Meno 1 0 1 Allora Andiamo a vedere geometricamente La cosa come si giustifica Allora Prendiamo Questo innanzitutto è un piano Perché è un piano Perché passa per i punti 1 0 0 0 1 0 È un sottospazio affine Perché l'equazione È lineare Ha tre punti Il più piccolo sottospazio affine Che contiene tre punti Non allineati È un piano Quindi potrebbe essere O un piano O tutto le retri Ma non è tutto le retri Perché sappiamo Se io per esempio Prendo un punto 2 1 3 X più più 0 Fa 6 E non può Quindi passo per questi tre punti Se io unisco questi tre punti Vedete ottengo un triangolo Quale piano è? È difficile Un po' difficile Disegnare con la regola La prospettiva Ma è il piano Che contiene questo triangolo Questo triangolo Lo prolunga E ottengo Quando è che ottengo Il triangolo? Quando Di questi punti qua Invece di fare La combinazione lineare Faccio la combinazione Cioè Invece di fare Un punto base Più la combinazione lineare Delle altre due Deve dire Allora Cosa sto facendo qua? Sto prendendo Un punto base Per esempio Ho preso questo P Poi questi Li chiamiamo Q e R Ma questo è P Questo è Q meno P Anzi è P meno Q E questo è P meno E Ma non dovrebbe essere Q meno P E R meno P Va bene uguale Perché tanto Il confine che ci sta davanti Varia di tutto R Semplicemente È come aver cambiato il segno A quel principio Cioè se voi fate L'equazione Invece di fare P più T Volte Q Meno P Che vi dava una retta Fate P Pi più T Volte P Meno Q Oltre sempre Basta bassa sarebbe Semplicemente La state percorrendo Partendo da P La state percorrendo AQ Solo che cosa significa Significa che io da P Mi posso muovere verso R E proseguire Oppure mi posso muovere Verso il Q E proseguire Quindi ottenere due rette E quando faccio Una combinazione lineare Di questi due Spostamenti Potengo Un punto generico Un punto generico Di che cosa? Del piano Che contiene queste due rette Perché contiene queste due rette? In generale Due rette Non sono contenute in un piano Perché possono essere Sghembe Vedremo Ma queste sì Perché sono incidenti Ma sono tutti due da P Due rette incidenti Non sovrapposte Il Diciamo Sono contenute in un piano E Un piano È più piccolo Sotto spazio Al fine Che l'elettorio Qua cosa faccio Per esempio Qua parto Dallo stesso punto Però Perché? Perché vabbè Il punto ce l'avevo prima Voglio sempre partire a P Però dove mi voglio muovere? Non mi voglio muovere Verso Q o verso R Ma mi voglio muovere In direzione Per esempio R-Q Vedete? Una direzione Ce l'avete ancora L'altra direzione È cambiata Una direzione Semplicemente Invece deve C'è davanti C'è davanti Questo non è importante L'altra direzione A chi corrisponde Corrisponde a R-Q Ma la direzione R-Q Sta sempre Sullo stesso piano Perché Quando voi avete Un piano E avete Tre punti Su questo piano Allora vedete Che tutte e tre Queste rette Stanno a piano Quindi tutte e tre Le direzioni Di questa rette Giacciono Su questo piano Normalmente Sul piano Passando Tra la rete Passando Quindi Cosa abbiamo imparato Da questo esercizio? Abbiamo imparato Vaghe cose La prima Se io prendo Un'equazione Generica Quindi Se io adesso Vado a scrivere Fatemi Accelare Lo scrivo A sinistra Allora Qua ci mettono L'origine Qua ci metto Un piano Non passando Per l'origine Allora qua ci metto Un punto P E qua ci metto Due direzioni Del piano Vediamo V e V2 Ok Allora questo piano Diciamo che ha Equazione AX Più BX Più CZ Uguale 0 Uguale D Non passa Quindi non può Essere 0 Se metto 0 Deve passare L'origine Metto 0 0 0 0 Diene 0 Se ci metto D diverso da 0 Non passa Allora Le coordinate Le coordinate Di P Le chiamiamo X con 0 Y con 0 Y con 0 Z Che vuol dire Vuol dire Che AX con 0 BX con 0 CZ Deve fare Di Deve fare Di Che P È un punto Che sta Ok Allora W Adesso lo chiamo X con 1 Y con 1 Z 1 Vediamo Se avete capito Quando deve fare AX con 1 Più B Y con 1 Più C Z 1 Deve fare Z Facciamoli Meglio Questi qua Perché Ancora meglio Voglio Voglio Che sia Chiaro Che non Sono Necessariamente Tu E adesso Vediamo AX con 2 Più B Y con 2 Più C Z 2 Questo è V V è uguale AX con 2 X con 2 Z Quando deve fare Secondo Guarda Io dico Che deve fare Perché Allora Andiamo a vedere Lo faccio Qua sotto Se io prendo P Più Pi W Sta sempre Sul piano Il piano Chiamiamo Non c'è Nel piano Chiamano Con le lettere Greche Le rette Si chiamano Con le lettere Deve appartenere Sempre a Pi Sempre lo stesso Piano Se mi muovo Lungo il piano La retta La direzione W sta sul piano Quindi Che significa Significa Che il prodotto Scalare Di A B C Virgola Pi Pi Questo faceva D Se adesso Vado a fare A B C Scalare Pi 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 Se adesso Faccio La differenza Cosa Mi viene A B C Virgola Scalare Pi 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 Scalare E Lineare A Dessa Fa Zero Ma La T La potete Portare Fuori Questo Vale Per ogni T La T Ci mettete Uno La Noi Dietro E Si Trova Il Ragionamento Con V E Esattamente Fatto Lo stesso Ok Quindi Il mio piano Di grego Di grego era Insieme Insieme Degli X Y Z Talinei AX Più BX Un C Z Facesse D Ma questo Lo posso Scrivere Le grego Insieme Di Pi Pi Più Lambda V Più Mu V Anzi Chiamiamo Lambda V Più Mu V Doppi Mettiamo Vabbè Tale Che Lambda Appartiene A R Adesso Ho fatto Un altro Piccolo Passaggio In più Qua metteteci Mu Invece Che Di Allora Lo stesso Discorso Lo vale Con Lambda A B C Scalare V Dove Pare Zero Poi Sommate Tutto Quando Andate A sommare Cosa Ottenete P Più Lambda V Più Mu W Ancora Sta E Piano Perché Quando Andate A fare Il Direzioni Diverse Fanno Quando Andate A Il Prodotto Scalare Con ABC Fa Zero E Quindi Io le posso Sommare Come Di Parle Questa La posso Multiplicare Per L'anno E Questa La posso Multiplicare Per Nuno Allora Che Cosa Abbiamo Finalmente Trovato Abbiamo Trasformato La nostra Equazione Cartesiana In equazione Para Allora Però Che cosa Ne fa Questo Che cosa Abbiamo Scoperto Questo ABC Che rappresentava ABC A che cosa È Ottoconato Cosa È Ottoconato Av E Av Cioè A due Direzioni Che stanno Sul piano Come Le ho Prese Queste due Direzioni Se Le prendo Allineate Quando Vado A fare L'equazione Parametrica Mi Verrà W Multi Di V Alla Fine Mi E La retta Ma Se Le prendo Non Allineate Perché Sul piano Posso Prendere Due Direzioni Non Allineate Cosa Troverò E Queste Due Direzioni Sono Linearmente Indipendenti E Allora Quando Io Vado A Fare Immaginate Che L'origine Sia Qui Quando Vado A Fare Una Combinazione Di Questi Due Vettori Con La Regola Del Parallelogramma Cosa Ottengo Un Qualunque Punto Del Piano Ok Un 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 Qualun Va Bene Quindi Tornando indietro, la mia equazione paramedica, ABC cosa rappresenta? Vettore ortogonale al piano, perché se è ortogonale a due direzioni e ogni altra direzione ha una combinazione in a di quelle due, è ortogonale a tutte le direzioni che stanno sul piano, praticamente è come se ABC fosse il vettore verticale e il piano fosse il vettore perizontale, se lo girate, se girate tutto quanto in maniera rigida, poi D è uno spostamento rispetto all'origine, cioè per esempio se io prendo Z, se prendo Z uguale a 0 mi viene il piano orizzontale XY, se prendo Z uguale a 5 mi viene un piano più in alto, se prendo 0 uguale a meno 3 mi viene un piano più basso, quindi vuol dire che mi sono spostato rispetto all'origine e questo paramedicamente come lo posso fare? Posso fissare un punto P sul piano e poi sommare a questo punto P una combinazione lineare di due direzioni linealmente indipendenti che sia sullo stesso piano. Allora che cosa succede quando vado a fare il prodotto scalare? Il primo pezzo, quando vado a fare il prodotto scalare di ABC con questa somma qui, il primo pezzo, ABC scalare questo in tal D, ABC scalare lambda V di dato 0, ABC scalare 9 V di dato 0 e rimando sul piano. Quindi il mio piano lo posso descrivere in questo modo e sono passato all'equazione parametrica. Adesso però come vedete che mi succede? Prima fatto l'equazione cartesiana è 1, è fissa e quella non c'ho problema a scriverla, per esempio in quel caso di sopra era x più y più z uguale a 1, non devo scrivere nient'altro. Quando passo a questa equazione parametrica ho parecchie opzioni che posso decidere in maniera arbitrata. Primo devo decidere P un punto del piano, io là ho preso il punto 1, 0, 0, avrei potuto prendere il punto 0, 0, 0, 0, avrei potuto prendere il punto 0, 0, 1, avrei potuto prendere il punto 5, 4, meno, perché x più y più z è il punto 5, 4, meno, fa 5, più 4, 9, meno, che fa 1. Quindi questo punto qui è un punto arbitrario del piano. Dopodiché queste due direzioni, anche queste hanno un certo grado di arbitrarietà, perché qua per esempio erano 1, 0, meno 1, qua erano 0, 1, meno 1, là erano meno 1, 1, 0, meno 1, 0, 1, che è l'opposto di questo. Potrei cambiare un po'. Cosa le accomuna? Le accomuna solo due fanno? Primo fatto sono tra loro linealmente indipendenti e secondo fatto sono ortogonali ad abc. Quindi se io volessi un'altra direzione che va bene, potrei prendere la direzione 3, 4, meno 7, perché il prodotto scalare di 3, 4, meno 7 con 1, 1, 1, fa 3 più 4, meno 6. Se io scrivo 4, 5, 4, meno 8, più lambda, 3, 4, meno 7, più mu, 1, meno 5, 5, eh? Questo è lo stesso piano di B. È cambiato tutto, ma questo è un punto del piano, 5 più 4 fa 9, meno 8 fa 1. Questo quando va di prodotto scalare con 1, 1, 1, viene 3 più 4, meno 7, che fa 0. E questo quando va di prodotto scalare con 1, 1, 1, 1, fa 1, meno 5 più 5, che che fa, scusate, 0, meno 5 più 5, anzi facciamo 1, meno 5 più 4, quindi via 5. Ok, questo piano qua è uguale a questo piano. Quindi come vedete, adesso facciamo un po' di assunto, poi faremo un po' di esercizi nell'ora seguente. Allora, dobbiamo ancora vedere un'altra cosa, come passare dall'equazione parametrica a quella cartesiana, perché abbiamo visto come passare dalla cartesiana alla parametrica, ma non abbiamo visto per la retta come passare dalla parametrica a quella cartesiana. L'abbiamo visto per il piano, come passare dall'equazione cartesiana per la parametrica. Ok, allora facciamo il riassunto. Per le rette abbiamo preso l'equazione parametrica, l'abbiamo cambiato, l'abbiamo preso, invece di prendere i vettori delle rette, prendiamo le rette, l'equazione parametrica ha la stessa forma. E basta, poi non abbiamo tradotto come passare l'equazione cartesiana. Vedremo che per passare una retta in forma cartesiana bisognerà avere un sistema di due cartesiani. Dovrò scrivere due cartesiani dei cartesiani e anche lì avrò delle abitualità. Però quello si capirà molto meglio avendo già fatto questo esercizio. In questo esercizio cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un'equazione cartesiana, l'abbiamo riscritta in R3 e abbiamo visto che in generale non mi dà più una retta particolare. Adesso poi abbiamo preso l'equazione generale in R3, invece di quella è una particolare, prendiamo quella generale a x più bx più g0 uguale di t, e questa mi dà un piano un passante per origine, è uguale a 0, ma in generale come posso fare se voglio trasformare queste equazioni in forma parametrica. Devo prendere il punto phi del piano o devo prendere due vettori che giacciono, per meglio dire, non su questo piano ma su quello parallelo passante per origine, cioè due direzioni che stanno tutta. Se riprendo linearmente i dipendenti, per esempio in questo caso sono lineari, qua è facile vedere perché fino a due vettori elementi indipendenti basta che non si sono molti più migliori. Mi daranno due direzioni indipendenti sulle quali mi posso muovere lungo il piano. Quando vado a fare le loro combinazioni lineari ottengo tutto il piano passante per l'origine, quando le sommo a p ottengo tutto il piano traslato. Si può vedere benissimo quando vado a fare i prodotti scalari, perché quando vado a fare i prodotti scalari di abc con p, mi dà di, con l'altro mi dà 0, con l'altro numero. E quindi, praticamente però come faccio per ottenere, allora, se voglio ottenere l'equazione parametrica, molto semplice, due numeri di fisso a caso, il terzo però deve essere una variabile che posso ricavare dalle altre due, in questo caso tutte e tre le variabili si possono ricavare fissate dalle altre due, quindi qua fisso x e y al caso, per esempio 5 e 4, e a quel punto c è uguale a 1 meno 9 e quindi deve fare meno 8 per forza. E questo è un punto del piano. In quanto riguarda, quindi ho trovato una soluzione particolare del sistema, la metto a posto di qui. Qua cosa devo fare? Devo trovare due soluzioni dell'omogenea. Anche lì è facile, perché l'omogenea è x più x più z uguale a 0. Allora che cosa faccio? Prendo, fisso 3 e 4 e allora ci deve fare meno 7, oppure fisso 1 e meno 5 e allora ci deve fare 4. Ok? Dice, ma come potrei fare, ma come potrei fare per essere sicuro che sia l'indipendente? Quindi, fisso 0 e 1 e l'altra mi viene meno 1, fisso 1 e 0 e l'altra mi viene meno 1. 1, 0 e 0 e 1 sicuramente mi dicono che quei due vettori sono indipendenti. Perché sulle prime due coordinate, trascurando la terza coordinata, sulle prime due coordinate, già sono indipendenti. Chiaro? Quindi in qualche modo, sì, forse questo è il modo più semplice, uno dei modi più semplici, però anche a questo modo. Ok? Le ho fatti tutti per far vedere che c'è un certo grado di arbitrarietà, se qua non dico c'è il grado di arbitrarietà, perché i punti che stanno su questo piano sono infinito alla 2, cioè sono tanti. Le direzioni pure sono tante. io la prima posso scegliere come si fa, la seconda posso scegliere come si fa. Basta che poi la seconda non la prenda proporzionale alla. Chiaro? Fino a qui? Va bene. Adesso ci riposiamo? Grazie.